Mille imprese coinvolte in tutta la città e oltre 200.000 euro investiti per illuminare il Natale dei napoletani e dei tanti turisti che affolleranno la città. E' questo l'investimento realizzato da Confcommercio Napoli insieme ai commercianti partenopei che si stanno preparando alle festività. Il calendario delle accensioni delle luci si partirà nella zona pedonale di Via Toledo, sabato invece sarà la volta di Chiaia e Corso Umberto. Il 29 Spacca Napoli e il Borgorefici si conclude il 7 dicembre all'Arenella dopo 25 anni di buio. Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio, sottolinea soddisfatto. Quest'anno attraverso una collaborazione e una condivisione di obiettivi con l'amministrazione comunale siamo riusciti a fare un buon lavoro. Ma i protagonisti di questo buon lavoro sono state le imprese che hanno consentito la possibilità di ottenere le risorse economiche per fare questo investimento sulle luminarie. Abbiamo più di mille imprese che nella città di Napoli, tutte aderenti a Confcommercio, hanno deciso di sostituirsi a quello che è l'investimento che di solito viene fatto dagli enti pubblici. Si sono autotassati e in questa maniera abbiamo avuto la possibilità, appunto con questo cofinanziamento di tante piccole imprese, abbiamo avuto la possibilità di realizzare il progetto dell'illuminazione natalizia a Napoli.